Proprio mentre i calciatori del Messina si raduneranno al San Filippo per le visite mediche e propedeutiche all'avvio della preparazione estiva, che i peloritani svolgeranno come un anno fa in Abruzzo a Castel di Sangro, a Milano il direttore sportivo Fabrizio Ferrigno sarà impegnato in un summit di notevole importanza. Nel capoluogo lombardo si trarà infatti l'incontro tra il responsabile del settore giovanile del Genoa Michele Sbravati e la dirigente peloritano. Sul piatto non ci sono soltanto le posizioni del portiere Ettore Lagomarsini, del difensore Procolo Cagliazzo e del centrocampista Antonio Cicatiello, protagonisti di un'ottima stagione in riva allo stretto. Non è escluso infatti che la collaborazione avviata un anno fa in concomitanza con lo sbarco nel capoluogo ligure di Pietro Lomonaco, attuale patron del Messina e soltanto per qualche mese amministratore delegato Rosso Blu, possa sfociare in un rapporto ancora più stretto. Per ammissione dello stesso Sbravati, nel corso del summit verrà discussa infatti la posizione di altri due o tre giovani calciatori di proprietà del Genoa, che presumibilmente potrebbero essere girati a titolo temporaneo in riva allo stretto per consentirgli di accumulare esperienza. A questo punto quindi cresce l'ottimismo anche sul destino di Lagomarsini, Cagliazzo e Cicatiello, sul cui ritorno a Messina nonostante la concorrenza di altre formazioni di Lega Pro e Serie D, Ferrigno si è già sbilanciato nei giorni scorsi. Andranno discussa la formula, i peloritani proveranno a ottenere qualcosa in più del semplice prestito secco di un anno fa, una comproprietà ad esempio rappresenterebbe un grande investimento in ottica futura. Da definire la posizione di Sebastian Caldore, il terzino di proprietà dell'Arzanese, che l'anno scorso lo girò in prestito al Messina in D. Il direttore sportivo del club della provincia di Napoli, Massimo Cavaliere, non ha ancora chiarito le intenzioni dei campani, che potrebbero anche provare a trattenerlo dal momento che quest'anno le due formazioni saranno inserite nello stesso girone di seconda divisione, e quindi i rivali sul campo. Un incontro tra le parti non è stato ancora fissato, anche perché in questi giorni i peloritani si sono concentrati sulla definizione di altre operazioni in entrata, come quelle che hanno portato agli ingaggi di Guadalupe e Bolzanne, che presto potrebbero regalare un altro paio di colpi, forse anche uno per reparto.